La violenza fa parte dell'uomo e fa parte anche della giustizia. Non ci può essere giustizia senza violenza. Voglio intorno a me solo gente di cui mi posso fidare. La verità è un lusso che non ci possiamo concedere. La violenza fa parte dell'uomo e fa parte dell'uomo e fa parte dell'uomo.